allora ragazzi ci siamo buonasera a tutti grazie a tutto lo staff del Brinca che ha lavorato qui allora primo brano di differenza di potenziale tradire e fare buon divertimento a tutti e allora da un mare, da un mare, da un mare, da un mare, da un mare e di me, per fare, non è giusto ma l'amore, che può stare a lei per il fatto C'è scritto, c'è so spandolo, che si è andata in maniera, in modo di farlo. Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.